Ciao a tutti gli amici di Serial Gamer, amici di Andromeda, amici di tutti, del Mago di Sosti, di Zektor, di Cooler Master, tutti quanti. Siamo in diretta su Dirt e ok, va avanti i gioci, quindi va benissimo. Abbiamo già avuto modo di provare il gioco, le nostre esperienze sono state moltiplici, dalle capriole nelle lande dei circuiti. Gli impallamenti sui pini, possiamo direi provare anche la carriera, magari, tanto per, oppure, ok, mettiamo la carriera, discipline, sì, rally diciamo, e poi, qua non saprei cosa fare, mettiamo il gioco, ok, internazionale. L'internazionale degli anni 90, dovremmo poi ricomprare la macchina, siamo ricchi ovviamente, giustiamo assolutamente. Garage, guarda le condizioni che c'erano per l'acquisto, però capito, non ve l'ho dette, era un po' assicuro. Penso che tu possa acquistare quelli che puoi usare, concessione, acquiste i free. Anni 90, quindi, si presuppone che la macchina debba essere... Sì, quelle che ti danno. Sì, se tu torni nella schermata, quella della corsa, ti dice le caratteristiche specifiche che deve avere la macchina. Quindi torno pure lì nell'area internazionale, anni 90, gruppo A, KitKa F2. Acquistiamo quelle caratteristiche lì. Vediamo se... Ah, garage, ok. Vorrei avere solo uno in garage, quindi... Sì, vediamo. Ah, però comunque devo sempre selezionare, vediamo un po'. Era... esatto. No, era... non era R2. Gruppo A era. Gruppo A, vediamo se... No? No. Provo a cercare più avanti. R5. Dovrebbe essere lì in alto, scritto. No? No. Rx. Le buggy direi, no? No. Super car. Super car. Però costano troppo, no, questa no. Però non credo si costruisce questa. Non credo? No. No, no. Vabbè, facciamo così, cambiamo evento e facciamo uno più semplice, perché siamo un po' poveri. Direi questo qua, che magari... Dopo il contemporaneo, dovrebbe andare bene anche la nostra super lancia. Via. Via. Staviamo già a posto. Ok, un po' di indecisione, ma ci sa. Togliamo un farm. Vedremo un po' cosa ci aspetta. Anche se corre in mezzo alle fattorie non è che mi ispiri molto. Si può sempre fare. Qui devi tornarti in curve a U. Però almeno sono all'inizio, quindi potremmo recuperare più tardi. Sperando di riuscire a guidare bene, perché... Prosegui. Pizzeroi. 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 Siamo già a ventesimi. Meno male. Hanno già riconosciuto la forza di Enon, hanno messo ventesimo. Ok, vai detto meglio. In realtà, grazie ai nostri sforzi precedenti, siamo riusciti a vincere tutte le coppie a cui abbiamo partecipato. Finizia, come ce l'ha fatto? fantastico, di cui ne stavamo parlando la prima prova è andata benissimo appallamento a destra 5, crinale, destra 8, 60 tieni la destra sul crinale, ottagli andiamo alla destra, simon, ho tenuto la destra in un secondo e stiamo riportando i due nanosecondi tieni la sinistra sul crinale, destra 6, non tagliare sinistra 6, tieni la destra sul crinale, non tagliare destra 2, crinale 80, tieni la sinistra sul crinale per me stanno un po' lì se ho perso un po' di tempo lì, ci dicevamo dell'analogia che c'era l'unico, non ho quattro sinistra 5, destra 3, su crinale, e sinistra 4 in destra 5, 80, destra 5, lunga ma il primo è che ogni volta tipo le curve prime infatti io ti consiglio di guardare molto la spalla eh sì, perché è difficile appena prendi, non tagliare, 80 in abballamento sinistra 5, lunga, non tagliare, abballamento dosso, 100 in abballamento e crinale, possibile salto sì, infatti a fine la propria ho fatto il corso dell'evento, mi sono stati ubicati e ho volato su questo, è un punto di tutto il piano appena prendi un attimo non tagliare, 200, sinistra 6, e destra 2, lunga e si ripalta, non ho intervisto già prima 60, destra 5 chissà, la prima prova dopo un po' di tempo non abbiamo i tempi non abbiamo i tempi ho preso un paletto di ritex, non ho impiantato viste in abballamento sinistra 5, lunga sinistra 5, crinale, crinale non tagliare, contante in abballamento sinistra 5, lunga non tagliare, non tagliare, sinistra 5 destra 3, crinale, e sinistra 4 in destra 5 ah, il paletto di ritex non può farmi così male sinistra 6, lunga, stringe sul crinale ma, non è un'altra cosa non è un'altra cosa non è un'altra cosa ora dovremmo essere accidenti parazione automatiche sì, in teore però siamo arrivati dovremmo essere primi ok, verso il commissario il commissario adesso lo... non potresti dire il commissario non posso portare niente c'è il commissario di faccia però siamo arrivati primi ottima tappa la macchina per... devo dire che si è fatto un grafico il motore è entrato in cabina però... vabbè, però alla fine valutiamo anche la tappa importante risultato importante risultato siamo arrivati primi quindi... va benissimo, prosegui vediamo cosa ci aspetta la prossima non ho visto dei canguri purtroppo come me ne aspettavo qualcuno in giro peccato però siamo ancora nella strada quindi c'è sempre la possibilità sbaglio o tracciato... fa intendere che ci saranno dei dirubbi dove probabilmente cadrò subito che rende un voluto ghiaia grossa bene, perfetto a me è gustoso molto importante la ghiaia grossa capire come guidare voglio vedere se si mette a piovere potrebbe essere una punta cosa in realtà... siamo davanti ad Alvarez quindi... ci sono vari tipi di tracciati per esempio... la differenza tra la ghiaia grossa di adesso e invece... l'asfalto è completamente diverso 5... 4... 3... 2... 1... si pia con la ghiaia e agendiamo un po' di quale glissa mentre l'asfalto conferisce con me la vettura più... 100 in abballamento crinale possibile saldo abballamento crinale e abballamento destra 3 sul crinale con alta in abballamento crinale sinistra 5... destra 4... non tagliare... sinistra 3 sul crinale l'emozione di Alvarez 5... se non facevi sull'asfalto eri praticamente nell'altra parte si si attenzione crinale sinistra 2... 60 in abballamento vieni la sinistra sul crin... nooo destra 6... abballamento dosso 100 in abballamento 100 in abballamento 100 in abballamento e crinale 80 in abballamento 80 in abballamento vi giuro che io non l'ho schiacciato ed è andata a destra la sua rama è andata in presso un dosso la temperatura dell'acqua è alta la temperatura dell'acqua è alta mi fa piacere però... il crinale possibile salto abballamento sinistra 3... un altro... destra 4... apre Lunga 80 in abballamento sinistra 5... non tagliare sinistra 3... e crinale destra 3... esatto possiamo vedere più caldo ci desconoscendo si abbassassassero non tagliare non tagliare non posso tagliare sennò vado nelle piele 1 sinistra 4... se non passiamo a salto sono molto sui posta le modalità E sinistra 4, 70, destra 3, non tagliare In sinistra 2, lunga, apre E tornante aperto destra, 80 Sinistra 4, stringe, non tagliare E destra 3 E sinistra 4, non tagliare, 80 Sinistra 6, tieni la destra sul crisolo Non tagliare, destra 2, crinale 80 Tieni la sinistra sul crinale, 80, destra 5, lunga, non tagliare Non tagliare, attenzione, crinale, possibile saldo Non vedo qui, io posso tagliare Non vedo qui, io posso tagliare In sinistra 4, sinistra 3, crinale Ecco, questo è tagliare Queste macchine sono in realtà di 8 E quando vai giù hanno una posta Destra 5, un cancello Di riprendere la strada incredibile Destra 3, lunga, apre su crinale Abballamento, destra 5 Sinistra 5, abballamento, non tagliare Sinistra 3, lunga, stringe su crinale Non tagliare Appena prendo l'esterno della piazza E perdono Sì, sì, quindi sbalzare Se non ci possono fare Destra 5, sinistra 6, lunga, stringe sul crinale Destra 5, 100, attenzione, frena Guarda come la metti di traverso E destra 6, così 110, abballamento 110 Tieni la sinistra sul crinale E crinale, possibile saldo Possibili saldo Possibili saldo Sì, sì Mi sono appoggiato Determine alla curva 110, abballamento Tieni la sinistra sul crinale E crinale, possibile saldo 200, al traguardo Al traguardo Vai Siamo arrivati prima Qui Pensiamo di commissario stavolta Vi dà qui Niente da fare Non devi buttare su il commissario Devi buttare davanti davanti Perfetto Però la macchina deve dire che è rimasta uguale a prima Sì È quasi inesistente ormai la macchina Non ci rimasto niente Diciamo che la carrozzeria L'hai lasciata alla tappa prima Era l'ultima? No Mi sa che ce n'è un'altra C'è una mosca? No, poi queste ci sono ancora più curve di prima Ah, è una questa E anche la mosca vuole farti fare la live Se vuoi Cercheremo di Però piccato non è venuto a piovere Mi aspettavo un diluvio Così da vedere anche Che condizioni ambientali Io ho fatto una tappa che c'era la nebbia Non hai mai provato la nebbia? Non hai mai avuto Cosa? Cosa? C'era 5 Eh, ma Ah ok Io ci sono andato a piovere aperto La vittoria ci assicurerebbe O tre Per fortuna si è riparato No, perché per fortuna ci sono le riparazioni Parziali Una volta ho giocato con la motiera di sabbia Mi sentivo annunca E ero praticamente disperso 5 in avvallamento Si, certo Tieni la destra sul crinale Sinistra 6 Tieni la destra sul crinale Non tagliare Destra 2 Crinale 80 Tieni la sinistra sul crinale 80 Destra 3 Lunga Apre sul crinale Non tagliare Appallamento Destra 5 Non tagliare Destra 6 E sinistra 5 Sul crinale E io Tanti in appallamento 80 Attenzione Sinistra 4 Sul crinale E sinistra Ti ricordi Esatto Tiene la destra In tir E vai fuori scuola Sinistra 4 Stringe Non tagliare E destra 3 Quindi l'importante è che di che non tagliare E sinistra 4 Non tagliare 60 Destra 4 E sinistra 3 Non tagliare E destra 4 Apre Destra 3 60 Non tagliare Destra 2 Non tagliare Tieni la sinistra sul crinale 100 In appallamento E davvero Un po' troppo Dai al centro Sui crinale 100 Dai al centro Sui crinale 100 100 In appallamento Tieni la destra Sul crinale 100 Attenzione Prena Un ante aperto Sinistra E destra 2 Lunga Stringe Tagliare Perché mi ha detto sinistra Qui destra In sinistra 3 Non tagliare Tieni la destra Sul crinale 80 Attenzione Crinale Sinistra 2 60 In appallamento Tieni la sinistra Sul crinale Destra 6 Non tagliare Tieni la sinistra Sul crinale Attenzione Destra 1 E destra 4 Sul crinale Sinistra 2 60 Non tagliare Sinistra 3 Non tagliare Tieni la sinistra Sul crinale 100 In appallamento Stai al centro Sul crinale 80 Tieni la sinistra Sul crinale Stai a poco poveri Non tagliare In appallamento Stai al centro Sul crinale 80 Sinistra 6 In destra 5 Attenzione Sinistra 3 Stai all'interno Stringe Destra 2 In sinistra 4 Crinale Non tagliare Stai al centro In appallamento 100 In appallamento Tieni la destra Sul crinale Sinistra 4 Stringe Destra 3 Non tagliare Sinistra 4 60 Destra 5 Altra 4 Altra guarda Altra versione Ok Verso il Fermati dal commissario No come Stai a toggetti Poi fine Poi magari Guarda Stai infazzendo Ma sto tornando da solo Ma stai fermo Ho schiacciato Una volta La retro E una volta L'accelerazione E' andata da solo Era imbattibile Era imbattibile Ok Ok Preseguiamo ancora Non seguiamo Qui Dovrebbe essere Finito Oh Siamo arrivati primi Troppo forti Alvarez È arrivato secondo Non c'era l'inter Da fare Allora Addirittura Meno 4.000 Di riparazioni Però Non l'avrei mai detto Già E' tanto di molto Abbiamo fatto Sbuttare la macchina Nel passino Sbuttare la macchina Non c'era l'interno E' tanto di molto Sbuttare la macchina Sbuttare la macchina Sbuttare la macchina Sbuttare la macchina Vediamo cosa ci aspetterà adesso Seconda tappa Allora Seconda tappa Seconda tappa Siamo in Galles. Vediamo come stagiava Paolo. Ma questa niente è nuvolosa. Sì, spero che tu becchi la legge. Me lo amo. Così dimostri le tue capacità da pilota. Eh beh sì. Oh Miss Galles, quel nuvolone li non mi piace. Zao! Per me Zao ti batte. Ed è anche secondo me. Ma sicuramente la scelta delle musiche di questo gioco a me piace tanto. Sì, sì. Ma veramente coinvolgente. Sì, sono abbastanza ispirato. Avvia tappa. Sì. Sembra che oggi tutto procede liscio. Io non credo. Tutto procede liscio? Per me ti becchi un po' di pioggia, un po' di nebbia. Un po' di tutto. 5, 4, 3, 2. Guarda, guarda come da da. Sì, sì. Già di pilota professionale. Viene fuori subito. Abballamento. Stai al centro sul crinale. Sinistra 6 sul crinale. Destra 2 sul crinale. Non tagliare. Destra 5. Sinistra 6. Ho già accaminato il salto. Abballamento. Sinistra 3. Crinale. Non tagliare. Destra 3 lunga. Non tagliare. Crinale. Sinistra 5. Nel cancello. Abballamento. Sinistra 3. Crinale. Non tagliare. Destra 3 lunga. Non tagliare. Sinistra 5. È chiaia grossa. Al fondo. Ancela. Tieni la destra. Sinistra 3. Inizio tra la chiaia grossa e la fila. Sinistra 6. Sessanta. Destra 5. Sinistra 4. In angolo retto. Sinistra. Sinistra 3. Sì. Ho impegnato la macchina da dire. Che salta 10. Destra 5 sul crinale. Non si sa cosa succede via. Sì. Giuro che non l'ho capito. Le informazioni non ci sono più. Non lo sa neanche lui, praticamente. Il pilota ti ha rotto le palle. Aspetta, Paolo, fai tesi così forte. L'importante è non tagliare. Non tagliare destra cinque, sinistra sei. Bella questa curva. È bella bella. Il destra tre sul crinale, sessanta in abballamento. Tornante aperto, sinistra lungo, non tagliare. Dai al centro sul crinale. Tornante con l'altro sul crinale. Abballamento. Destra tre, sessanta. Sinistra sei in abballamento. Sinistra quattro sul crinale. E' un tiro a te lì troppo. Sinistra sei, dai al centro sul crinale. Sinistra tre in abballamento. Dai al centro sul crinale. Nel cancello, tieni la destra sul crinale. Sessanta in abballamento. Guarda che perfetto. La curva perfetta. Sinistra sei, destra quattro, sinistra tre. Dai al centro sul crinale. Destra quattro su tossi, non tagliare. In sinistra due, ottanta, crinale e abballamento. Destra sei, destra quattro sul crinale. Abballamento. Dai al centro sul crinale. Nel cancello, tieni la destra sul crinale. Sinistra tre, destra quattro, sinistra sei. Sessanta, sinistra sei. Tornante aperto, sinistra, dai all'interno. Crinale, sessanta, ottanta. Non voleva stare troppo all'interno. Dosso, subito, tornante destra. Dai all'interno. Subito torno. Destra sei, ottanta. E attenti che la porta si apre. Crinale subito. Subito. Destra due. In sinistra uno, non tagliare. Tieni la destra sul crinale. In sinistra due. Seno male. Attenzione, crinale, subito. Eh, questo è abilissimo. Destra cinque, non tagliare. In sinistra due sul crinale. Destra quattro, lunga. Sinistra cinque, sul crinale. Non tagliare. In sinistra sei, in abballamento. Sinistra quattro, sul crinale. Non tagliare. In sinistra sei, in abballamento. Certo. Sinistra cinque. Vieni la destra sul crinale. Non tagliare. Sinistra sei. E tornante aperto, destra lungo, in abballamento. Tentatore continua a parlare. Perché se sei in mezzagliante. Non tagliare, mezzagliare. Non tagliare. Destra tre. In sinistra due. Destra due. Sinistra tre. Destra quattro. In sinistra. Un abballamento. Le ho raggiunto tutto un crinale. Deve scherlo spunto con gli altri. E' solo le lefie. C'è il nostro Tino che ci sembra abbastanza, quindi in maniera inquietata, che sembra un po' di nuovo. Invesse il commissario adesso, che probabilmente è l'unica cosa buona da fare in questi casi. E no, fa anche il simpatico. Guarda che bello! E se sì che le luci sono a posto. E beh, chiaro. Però siamo arrivati ai primi anche oggi, che adesso, quindi... Confermiamo la nostra sescia positiva. Meno male. Guarda, all'inizio avevi tutte le luci. Deve essere sì. Sì, la musica è retic e cinque. Bokht e Winfarl. Ah, qua è Gaya Media. Gaya Media, molto importante. Sì, il particolare. Che Paolo... Gaya Media o Gaya Su? Quella grande non è che si trova su altri, però... C'è un cambio, un misto qua dentro. Che bello! Con un livello di 15.000. Sì. Ah, Müller! Che è secondo, eh? C'è più Alvarez che è stato secondo, vero. È Alvarez che è stato secondo. Che è stato malconcio. Sì. Sembra un po' malconcio, ma... È bello. Non l'abbiamo notato. Ed epoca. Non l'abbiamo una. Pic thumbs up. Ma manufacturing dalla sua fila. Non l'abbiamo Non l'abbiamo. Beh, nei basso queste nu squadre. Ma in 난ta non mi piace,pakashi? La televisione è stato con te. Ma sinistra è pure un santo per questo? destra 5 sul crinale, sinistra 3 lunga, non tagliare, destra 3 sul crinale, 100, la strada non ha mai tagliato solo il sinistro ma per me guardate un po' di secondi perché non mi piace destra 4 sul crinale, a ballamento, stai al centro sul crinale, 100, sinistra 5, sinistra 3 sul crinale, destra 6 sul crinale, 150, destra 3 lunga, stringe, dopo l'incrocio, non tagliare ma Alverez è tornato in secondi, dove devo andare sinistra 6, 60, c'erano 3 sul crinale, sinistra 4, su Dossi, destra 3, non tagliare, sinistra 4, perché vabbè, alla Samp sinistra 3 in a ballamento, dai al centro sul crinale, 60, in tornante aperto, destra, lunga, non tagliare, non tagliare, 60 in a ballamento, non ribaltarti sinistra 3 sul crinale, sinistra 3 sul crinale, sinistra 3 sul crinale, sinistra 4 sul crinale, non tagliare, sinistra 6 in a ballamento, 100, destra 6 in a ballamento, destra 4 sul crinale, possibile salto destra 6 sul crinale, sinistra 6 in a ballamento, destra 6, desbar Ep, sinistra 4 sul crinale, destra 6 sul crinale, 60, sinistra 3 in appallamento, e aggiornato, quasi tornate in testa, in attornante aperto, destra, turga, tagliare, vuole vincere tutti con sempre una tappa, non è contento, sinistra 3 sul crinale, destra 5 dopo l'incrocio, destra 6, vieni la destra sul crinale, sinistra 3, destra 4, sinistra 6, 60, 60, 60, 60, 60, in sinistra 6, al traguardo, al traguardo, lenta per il commissario, troppo forti, il commissario mi aspetta, questa volta però la divisa verde, calma, ottimo tempo, ho sentito la macchina forse il mio storico, oh che bello, ha un aspetto magnifico, magari faccio vedere anche, non so, qualche altra modalità, oltre la carriera, quindi gioca il te, è l'ultima, è l'ultima, tappa, dai Beppe, deliziaci con la tua performance, la mia performance, arrivando terzo, non ci arriva, facciamo a cambio voi due, ok? io sono vicino a Gerard, e a Gerard mi porterà fuori, no, no Paolo non te lo porterai, qualcuno non è d'accordo, ti prepara psicologicamente per la gara, psicologicamente è una scampagnata nel gruppo, se la prosegui da una vita, eh, sarebbe bello vedere con l'ipop, nessuna segnalazione dal commissario, buona fortuna, a me sembra che stai segnalando qualcosa, grazie, mi ha detto buona fortuna, guarda come è fatto, 5, 4, 3, 2, 1, via! ecco l'ho affermazione Sinistra 4 sul crinale, non tagliare, destra 5, 80, crinale, subito, destra 2, in tagliare, in sinistra 1, con le moto Tieni la destra sul crinale, in sinistra 2, lunga, attenzione, crinale, subito, destra 1, sinistra 6, crinale, a ballamento, destra 6 Sinistra 6, crinale, destra 5, non tagliare, sinistra 6, 150, destra 3, lunga, stringe, dopo l'incrocio, non tagliare, sinistra 6, stai al centro sul crinale, 80, in a ballamento, stai al centro sul salto, 60, sinistra 6 sul crinale, sinistra 6, sudosso, destra 3, sinistra 6 sul crinale, 180, in a ballamento Stai al centro sul salto, 100, sinistra 6 sul crinale, sinistra 6, sudosso, destra 3, sinistra 6 sul crinale, vieni la destra sul crinale, sinistra 3, non tagliare, destra 4, sinistra 6, non tagliare, 60, destra 3 sul crinale, 60, in a ballamento, tornante aperto, sinistra, lungo, non tagliare, stai al centro sul crinale Super, guarda, 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 a ballamento, destra 3, 60, nel cancello, sinistra 6 sul crinale, destra 2 sul crinale, destra 5, sinistra 6, 60, destra 6, sinistra 5 sul crinale, destra 6, crinale, sinistra 6 in a ballamento, destra 2, sinistra 3, perfetto Scusa, non l'ho fatto così Hai perso la spesa Siamo operato la posteriore sinistra, e destra 6, tieni la sinistra sul crinale, destra 5, 60, sinistra 6 in a ballamento, destra 6, sinistra 6, crinale, destra 5, attraverso Questo punto a te e a sbagliare, sinistra 6, sinistra 6 in a ballamento, sinistra 4 sul crinale, a ballamento, sinistra 6, dai al centro sul crinale, dancelò Di altra . Ma, ah, si è staccato l'estromico, si è iniziale, si è iniziale, si è iniziale Siamo iniziale, se è staccato, ah, altra guardia Eh no, adesso si è staccato il joystick, ho fatto tutto lei Ma è pure evocato esatto, un'appertura, ma sono arrivato, e vedremo andato sempre primi, perché, perché окine Bene Gli abbia vinto anche a tutti Siamo vincitori alla faccia di Alvarez alvarez poveretto 2.20 comunque le riparazioni sono uguali a prima inesperto abbiamo vinto due metri ma siamo colpiti inesperto facciamo sportellate nel rallycross ti vedo sta dubbata non è che per caso si è sbottato questa macchina con cui possiamo andare a fare rally su spravo di 90 forse si sennò bisognerà ricordare caratteristiche guarda, oppure i mini fuochi da più assolutamente mettiamo un po' idoneo scoperta squadra. Gruppo A, KitKar F2. Gruppo A, KitKar F2. Gruppo A, KitKar. Gruppo A, KitKar F2. Gruppo A, KitKar F2. вещiamo. Sicilissima questa qui, eh? Siete d'accordo? Sì, sì. Andiamo al volo. Però, per fare un dispetto ai nomi, ripeto. Ma perché era gialla? Perché guarda che bella. Ho sbloccato l'obiettivo. Come nuova. Paolo mi devi 10 euro quello che ti lo sbloccava. Mi dispiace, scusa, eh. Tanto non sarà mai gialla, alla fine diventa Marlone subito per tutti quei strade. Allora. Rally internazionale. Parragona. Andiamo? Direi di sì. Ma adesso tutto com'è a sorgere. Bellissimo. Ah, saremo in montagna? Sì. Quattro Stato liscio. Quindi se cadi sul traguardo... Ma non la posso girare, non la posso girare, sennò a valle. Sennò mi cappotto. Porca miseria. Arregona. Leppala. Siamo 46esimi? Beh, sì. Non c'è gusto. Notizie è vinto, sono fatto pericolo. C'è stato un incidente lungo la tappa, fai attenzione. E già, e non siamo noi, come? Incredibile è veramente, non siamo stati più. Noi ci fiamo nulla. Senti che non è incredibile. Bene, bene. Sì. Destra 3. Sinistra 6. E destra 4 in abballamento. Sessanta. Destra 5. Sinistra 3. E' già fine. E' una maneggevolezza incredibile. Beh, siamo anche sulla sola. Sì. Non è, ma dovresti provare. Sinistra 3 sul crinale. In destra 4 in abballamento. In sinistra 3. Lunga. Apre. Destra 6. Destra 6. Sinistra 6. E tornante destra. E sinistra 3. Destra 4. E sinistra 1 in abballamento. in sinistra 2 in abballamento. In sinistra 1. 80. Destra 4 sul crinale. Sinistra 6. 60. Destra 6. In tornante aperto. Destra. In sinistra 2. 80. Potevo frenare un po' effettivamente. No, no, ferma. Calma. E' quasi. E' quasi fatto. E' fatto niente. E' destra 3. E' in verticale. Forse andava veramente. Tornante sinistra. Lo sapete. E' destra 6. Guarda, guarda. Bellissimo. Sinistra 6. Sinistra 6 sul crinale. Destra 4. 60. Non vedo. è in verticale. Sinistra 6. Sessanta. Destra 6. In tornante aperto. Destra. In sinistra 2. Non tagliare. 80. E' destra 3. Eh sì. Sinistra 6. E' destra 4 in abballamento. Sessanta. Sinistra 3 sul crinale. In Destra 4 in abballamento Sinistra 3 lunga, apre Destra 6 cento I tracciati sono assolutamente divertentissimi Sì, sì Destra 6 sul crinale Sessanta, destra 5 Sinistra 5 Destra 5 Sessanta, destra 5 Oh no Erroraccio, erroraccio No, c'è quasi però Erroraccio Almeno sei chiuso la forza Destra 5 In sinistra 5 lunga, 80 Sinistra, stretta E destra 3 Sì, non può prendere il volo Appena con la posizione della destra E questo è il nostro sinistra iniziale E destra 4 In sinistra 5 Sinistra 4 Adesso, aprimanamente, come uno poteva Prendere quella super lice In sinistra 4 sul crinale 80 Sinistra 5 Destra 5 Sinistra 5 80 Destra 3 Sinistra 6 E destra 4 Ballamento, 80 Sinistra 4 sul crinale, 80 In sinistra 4 In sinistra 4 In sinistra 4 In abballamento E tiene la destra sul crinale Sinistra 3, 60 Sinistra 3 sul crinale In destra 4 in abballamento Sinistra 3 Sinistra 3 Sinistra 3 Sinistra 3 Sinistra 6 E destra 4 in abballamento Un miracolo Sinistra 4 Sinistra 4 Ah, e facendo dici di Esatto, se la fiammouli In giusto Al net All net Sì, le agite Sì, le agite Sì, le agite E questa adio Ed è Bello Bellissima Poi, questa macchina è un spettacolo adesso c'è subito il posto sinistra 6 e tornante destra si 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 e sinistra 3, 80 attenzione più di qualche più di qualche speriamo di non aver perso la leadership non da per il commissario più vecchi si corri beh a posto a parte che secondo me si ha notato qualcosa nello sterzo non so, gira un po' dove vuole lei lì, fermata lì ti lascio il posto che bel risultato meno male proseguiamo non vai anche se potremmo far vedere qualche altro abbandonare tutti no 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 finiamola 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 tanto si mancano vegani in teoria un po' un po' un po' un po' una cittadina una cittadina una chiesa non si sa a proposito di Spagna io ci tengo a ricordare che oggi dobi vizioso su moto italiana è andata a vincere in Spagna al mon velo questo non bisogna dimenticarlo un po' un po' un po' un po' un po' un po' si più si ancora madre sforzi Somebody ha un po' ma un po' un po' è un po' un po' sinistra 4 in abballamento e vieni a destra sul crinale sinistra 3 80 e destra 3 tornate a sinistra e destra 6 guardalo, guardalo no, più da troppo sinistra 6 sinistra 6, 40 destra 3 in abballamento non tagliare sinistra 6 sul crinale destra 1 in abballamento e sinistra 4 rompite un po' destra 2 in non tagliare un ante aperto sinistra lungo 60 destra 6, 80 sinistra 5 e destra 3 destra 3 in sinistra 5 e destra 1 in abballamento si, 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 girala no, sono più da troppo ah, questo pezzo era come un mezzo un mezzo è ricazzo disabischia andiamo subito sinistra 1 ma che cosa fa è? con la traditrice sinistra lunga sinistra 4 sono entrato sul letto 80 con l'incrocio non capisco dove devo girare questi posti sinistra 5 lunga dopo l'incrocio 80 destra 6 angolo retto destra non lo capisce nulla angolo retto ma sinistra stressa 60 ma come può uno umanamente prendere questo corpo a più ok e sinistra 6 60 sinistra 6 40 destra 3 in abballamento e sinistra 4 prendo qualsiasi cosa il mio cammino non tre e sinistra 3 in destra 4 60 e destra 3 tornante sinistra e destra 6 sinistra 6 80 destra 6 in sinistra 1 lunga tornante aperto destra e sinistra 4 60 sinistra 6 60 destra 6 in tornante aperto destra rocce esterne in sinistra 2 60 sinistra 6 60 destra 6 in tornante aperto destra in sinistra 2 non tagliare 80 destra 4 è tornante aperto sinistra tornante e destra e destra 1 lunga meno 22 seconde vabbè in sinistra 6 se la prendono più comoda lì non vedo destra 3 in abballamento sinistra 6 sul crinale destra 1 in abballamento e sinistra 4 destra 5 in sinistra 3 e dosso destra 4 e sinistra 6 in destra 3 sul crinale e tornante sinistra fosso una davia un nanoseconda e tornante sinistra un seconde e destra 4 sul crinale e basta prendere un centimetro di roccia e tornante aperto destra e sinistra 4 con tasa destra 4 e sinistra 1 in abballamento altra guarda altra guarda altra guarda lenta per il commissario io non rollo lento non so se la gli facci lo smeghe e mettono l'alto c'è un po' è imbattibile va benissimo così bene così ebbene guardate un po' così la carrozzeria è proseguiamo sperando che la macchina si metta a posto da sola questa è la terza tappa si l'ultima tappa che non fare tanto ormai ah ancora per questi cittadini che non mi piacciono proprio quella colva lì già la vedo la colva della morte è tipo nel fosso si si asfalto liscio eh correre sulla asfalto è molto molto meglio perché più aderenza ho studiato sulla pizza comunque ti rischi meno di finire fuori però comunque anche sulla ghiaia è una bella esperienza abbiamo un altro italiano incredibile lombardo Giulio Giuseppe chi lo so Gian Antonio ripara veicolo no non lo ripriamo è automatico la riparazione si ok non sei luci sembra un transformer ma sembra un ride si devo fare meglio di 4 34 non penso sia impossibile 5 3 5 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 6 6 5 6 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 7 7 8 7 8 8 Meglio che sì E tornante a sinistra E destra 4 sul crinale Quanti tornanti ci sono in questo momento? In tornante aperto, destra Ancora? E sinistra 4, lunga, 100 Destra 3 Sinistra 6 E destra 4 in abballamento 150 Sinistra 4 E subibaltrò Destra 6 sul crinale 60 Destra 6 In sinistra 1, lunga Tornante aperto, destra Eccolo l'altro tornante E sinistra 4 80 Destra 1, crinale Subibaltrò In sinistra 2 E sinistra Ho parlato troppo qua Destra 3 In destra 5 60 Sinistra 3 E destra 3, lunga Apre, stringe Apre, stringe In sinistra 1 Non tagliare Non tagliare Destra 4 E sinistra 5, lunga, diventa 3 Diventa 3 In destra 4 Destra 2, in Non tagliare Tornante aperto Sinistra 1, 60 Destra 6, 80 Ah, questo è un tornante Destra 2, in In Non tagliare Tornante aperto Sinistra, lungo, 60 No, è quello dopo Destra 6, 130 130 Destra 6, in sinistra 1, lunga Insigne Tornante aperto, destra Nooo, questo non l'ho aspettato E sinistra 4, 80 E destra 3 Tornante sinistra E destra 6 Ah, quella è Sinistra 6 Destra 6 Destra 6 Sinistra 6 E tornante destra E sinistra 3, 60 Sinistra 5 Apre lunga E sinistra 4 Sul crinale Sinistra 6 Destra 4 Lunga, stringe E attenzione Sinistra 4 Subito destra 3 Sul crinale Ingannevole Sinistra 5 E destra 3 Cosa vuol dire ingannevole La faccia perde tutto Ingannevole Sinistra 5 E destra 1 In appallare E sinistra 3 60 Ah, siamo arrivati alla party Veramente sinistra 5 Lunga Spero non ti sia una curva a gomito Destra 1 20 Duomo gli incroci Ma, ma dai Ma non sfonda Non sfonda Lampione Non resti che non sfonda Lampione Sinistra 2 Sinistra 2 Scende Destra 6 Che sfonda qualsiasi cosa Non sfonda E sinistra 3 E la truta di prima Stai attento E' uguale E' la stessa Destra 4 Bella sorte L'ho già fermo Quindi E sinistra 6 Sessanta Sinistra 6 40 Altra guarda Altra guarda Comunque Abbiamo fatto un minuto in meno Di essicurare Ma lenta Ti prego Calma E' andata bella Ottima tappa Complimenti Non ho visto che posizione Si è arrivata No, primo Ma un minuto Da seconda Adesso dovremmo aver vinto E magari vi mostriamo poi Cosa anche Delle altre realità Ah, se ne è andato Alvarez Per la disperazione Ah, se ne vi aso sto Si è arrivata Ma non dovrebbero esserci Ah, infatti 3.000 Di riparazione Dai Meglio del solito Competente Togliata di competente No Non so più Quando potremo uscire Da questo loop Continuo Di modalità carriera Ah, è la seconda parte Delle vinto Prima Da fratello Ma non si può Chiudere a metà Delle vinto Secondo me Se esci Ti cancellai La vagonia La tappa è in spagna Quella Ma sì Mi delizierò Quella mia mano ferma E del capriole E del capriole E del capriole La mia capacità di lettura Della carta stradale Sì La tappa con un buon tempo Le condizioni sono accettabili Quindi sia accettabili E tutto fatto ad hoc per te 5 4 3 2 1 Il sistema Sì Tieni la sinistra Sul crinale E crinale Possibile salto Solo noi due Avevo avuto vita facile Con che curvi fa me Crinale Tieni la destra Sul crinale 110 In appallamento 60 Destra 6 E sinistra 5 Sul crinale Contante in appallamento Il cancello 80 Il cancello Sinistra 5 Abballamento Sinistra 3 Lunga Stringe sul crinale Questa è dura Sinistra 4 E attenzione È evitato l'albero In una maniera incredibile In destra 2 Non tagliare Contante in appallamento Sinistra 5 60 Sinistra 5 Destra 3 Sul crinale Non tagliare E sinistra 4 In destra 5 Nel cancello 60 Destra 5 Contante in appallamento Sinistra 2 Sinistra 2 In sinistra 2 Sul crinale Non tagliare E destra 4 Nel cancello 110 In appallamento Tieni la sinistra Sul crinale E crinale Possibile salto 60 Contante in appallamento La vedo male Contante in appallamento Nel cancello 80 Contante in appallamento Nel cancello Sinistra 3 Sul crinale Appallamento E crinale Sinistra 4 Crinale Non tagliare Non tagliare In destra 2 Non tagliare Non tagliare Non tagliare Sinistra 5 200 Appallamento Un po' nel destra 5 Crinale Tornante Sinistra Un po' nel destra 5 A me c'è la curva in fame qui Destra Destra 3 Lunga Apre Sul crinale Appallamento Destra 5 Destra 6 E sinistra 5 Sul crinale Non stante in appallamento 80 Buon pilota Attenzione Sinistra 4 Sul crinale E sinistra 1 Tieni la destra Sul crinale Destra 3 60 Non tagliare Destra 2 Non tagliare Sinistra 2 Non tagliare Sinistra 3 Eh ma non ho capito Sinistra 6 Tieni la destra Sul crinale Non tagliare Potrebbe essere Eicco 2 Di riparazione Pensavo vorrei portare la pista Eh io però Vattene le pala Non mi sembra così impossibile Non tagliare Sinistra 5 Destra 6 Sinistra 4 Stringe Non tagliare E destra 3 E sinistra 4 Non tagliare 80 Tieni la sinistra Sul crinale Attenzione Destra 1 E destra 4 Sul crinale Però non ho mai avuto Tanti inversioni Non tagliare Sinistra 2 Non tagliare Sinistra 2 Non tagliare Sinistra 2 Lunga Apre E tornante aperto 80 Chiamata subito E' un'altra E' un'altra Guardia E' così qua Ok Verso il commissario Ok Ok Uccidi il commissario Ottimo prestazione Ottimo Ottimo Oh guarda Tutte le luci Eh Perfetto Complimenti a Paolo Che per la prima volta Ha tenuto le luci a poste Ragazzi purtroppo Vi abbandonerò Lascerò il mio posto Eccolo qua Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Incredibile Ti auguro buona fortuna Incredibile Il rimpiazzo Esatto Proprio io Che ovviamente Deve subito guidare Facciamolo guidare subito Per testare le sue abilità Io direi di sì A posto Viene il mio posto Subito No no Vai che ti alzi Invertiteli Assiediti Sbambo fosse già Immertito di suo Adesso vedremo Pintro come se la cava Allora Dato che è un pro di Dirt Ha già vinto Un sacco di coppe Che consola è questa? È Scorpio Ah bella La grafica è buona Non hai neanche Circuiti in mezzo alle città Quindi Più anche di culo Come ti senti a essere in Australia? Ma Ho sempre amato i canguri Io Ho un canguro a casa Vado a bere Tutti i giorni Capito l'acqua Ma Ma come? Ma pratica anche voi Ma siete stati prima Finitina del servizio? Eh no Questa è la classifica prima Che è Un po' Uno vuole Io lo vedo come un sabotaggio Che pure Schneider D'avanti Chiede anche Ipsho Cos'è? Prosegui A me viene le lucine Sul Joyce E non ce l'è No Hai fatto cose che non dovevi fare Hai fatto un casino E' arrivato Ciao mamma Hai detto meglio Io credo in te Come si accedera? Con il trigger Con il trigger Bisogna schiacciare quello Il freno E Basta già primo Destra 5 Ottante in appallamento Ministra 5 Lunga Stringe Non tagliare Non tagliare In destra 3 Si tentano sicuri Sì sì Sinistra 3 E crinale Destra 3 Non tagliare Mamma In sinistra 2 Prudenza Destra 2 E' provincia E' provincia Prudenza È prudenza Manca Sinistra 3 In crinale Non tagliare Non tagliare Non tagliare Sto facendo E' destra 4 Stai al centro sui crinali Stai al centro sui crinali Attenzione crinale, destra 5 e sinistra 6, 80, 110, abballamento, tieni la sinistra sul crinale e crinale possibile salto, 60, abballamento, eeeh, ma c'è te l'era realmente la sinistra, si deve non ascoltare, ma lui devi parlare perché è stato ingaggiato per quello, dove devo andare, dove è stato? 60, crinale e abballamento, destra 3 sul crinale, 80 in abballamento, per me sei molto meno di 22esimo, buongiorno signora, 70, abballamento, tieni la sinistra sul crinale, 60 in abballamento, tieni la sinistra sul crinale, destra 6, non tagliare, 60, non tagliare, sinistra 3, non tagliare, beh dai, hai recuperato in 10 posizioni, si è giudicesimo, non tagliare, sì, non tagliare, non tagliare, quindi neanche pensa, non tagliare, ah sì, dai, Russo, èρ, già già, Russo, ma basta ad arrivare sui regi, Russo, è il trigo, ah c'è davvero Russo, non tagliare, sinistra 2, 60 in abballamento, tieni la sinistra sul crinale, schiaccia il freccio del giù, ma, tieni la sinistra sul crinale, qu'hai preso 4 secondi, ti passeranno la vittoria qua, contante in abballamento. Guarda che saranno per quattro secondi che non si può fare, eh beh sì, non senti più niente abballamento dosso, ponte, 100 in abballamento e crinale possibile salto, 130. Eh possibile salto lo vedo giura, è caduto il vagomito che avanti crinale sinistra 5 in abballamento questo è troppo attento però tieni la destra sul crinale allora chi va piano sei ventitresimo di nuovo montante in abballamento nel cancello montante in abballamento montante in abballamento crinale e tieni la destra sul crinale 110 in abballamento destra 5 sinistra 6 lunga stringe sul crinale non tagliare destra 5, 60 sinistra 5 in destra 5 beh non tagliare proprio tagli lo stesso sinistra 3 sul crinale non tagliare arratto il campo del vicino destra 5 eh mi sa che l'abbiamo persa questa 110 in abballamento tieni la sinistra sul crinale eh sì col crinale è già arrivato ma come ha fatto 321 al traguardo ok eh ti fermi lo stesso che fregature signora buongiorno salve siiii carissimo il commissario si spaventa tantissimo il commissario ha confermato che siamo indietro in classifica dobbiamo recuperare ma come dietro in classifica dai tu la gara no 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 ciao va bene va bene va bene lo accetto lo accetto io penso che si porti in questi giorni mi sa no il dispositivo distanza ha interrotto uno streaming cosa è successo? è morto siamo di nuovo siamo tornati subito perché è così ah ho cercato un secondo via sinistra 5 destra 5 ho tante in abballamento sinistra 5 lunga stringe non tagliare in destra 3 destra 4 non tagliare e sinistra 3 comunque Paolo si vede che ha lo smalto e destra 4 non tagliare 60 stai al destro sui crinali 100 in abballamento si devi spostare l'alimenta non mi spostare sinistra 3 e crinale destra 3 non tagliare sinistra 2 senza destra 2 sinistra 3 crinale non tagliare e destra 4 dai al centro sui crinali 100 in abballamento se prendi il pubblico ti daranno più la penalità di 4 secondi non tagliare 8 ponte 100 in abballamento e crinale possibile saldo 200 sinistra 6 e destra 2 lunga 60 crinale e abballamento destra 3 sul crinale 80 in abballamento crinale tieni la destra sul crinale 80 attenzione crinale sinistra 2 la sinistra sul crinale destra 6 non tagliare sinistra 2 60 non tagliare mangiare non tagliare tieni la sinistra sul crinale 100 ma è importante questo stai al centro sul crinale 80 si si teni una di grahe e ci si appena appena attenzione crinale sinistra 2 tieni la sinistra sul crinale 80 attenzione crinale sinistra 2 60 in abballamento che hang in sinistra sulktor e sinistra 6 tossing 100 in abballamento singolo non so e non si e non mi non sì buongior DON'T MET enforced non si contadonna ста 15 certo darà ballamento e crinale, 8 in appallamento, crinale e tieni la destra sul crinale, 110 in appallamento, 110, sinistra 5, sinistra 6, lunga, stringe sul crinale, non tagliare, destra 5, 60, sinistra 5, in destra 4, sinistra 3 sul crinale, tagliare, destra 5, 110 in appallamento, tieni la sinistra sul crinale, in crinale, possibile saldo, 60, 110 in appallamento, altra guarda, Paolo ha rimaniato super, questo qua era più difficile, perché il secondo ha fatto 3,14, no 3,20, gli altri avevano tipo un minuto di vantaggio, perfetto, gran risultato, avanti così, questo vuol dire che, hai fatto la più difficile, ah, eh beh, mi sembrava, mi sembrava, infatti, no, non è nulla, ma non è che ne sarei reso conto, ah, sta musica è veramente carina, molto bella, la canastra è piaciuta, con queste tracce molto gustose, ghiaia grossa terra, si chiamano sassi, volevo dirlo, dai, è abbastanza dritta comunque, a parte quella curva lì in mezzo, che sarà un problema, quella biscia che c'è, eh sì, verso l'arrivo, quindi sempre è così come, bella dai, tenuta bene, la rivendete? No, prima dobbiamo finire, guarda che adesso è vintage, sono un buon piazzamento, otterremo fondi per nuovi componenti, ma no, grazie, non lavare i retributti, fondi per nuovi componenti, vai Paolo, dobbiamo vincere, eh beh sì, 5, 4, 3, 2, 1, via, sinistra 5, lunga, stringe, non tagliare, in destra 3, tieni la sinistra sul crinale, 100 in appallamento, stai al centro sul crinale, 80, sinistra 4, crinale, 60 in appallamento, destra 2, 80, non tagliare, crinale, sinistra 3, sinistra 3, e crinale, destra 3, non tagliare, in sinistra 2, destra 4, non tagliare, in sinistra 3, e destra 4, apre, non tagliare, 60, sinistra 6, 80, sinistra 3, sul crinale, non tagliare, destra 2, crinale, 80, tieni la sinistra sul crinale, 80, 80, 80 in appallamento, 80, sinistra 3, sul crinale, abballamento e crinale, nel cancello, sinistra 5, crinale e crinale, che rischio, è buono di essere casato, sinistra 5, lunga, non tagliare, 80, non tagliare, 80, non tagliare, è incontribile, sinistra 5, in appallamento, sinistra 5, in appallamento, sinistra 2, in sinistra 2, in sinistra 2, sul crinale, non tagliare, in destra 4, in appallamento, sinistra 5, in sinistra 6, lunga, stringe sul crinale, non tagliare, destra 5, 60, abballamento, dosso, 100, in appallamento, e crinale, possibile salto, 80, crinale e abballamento, destra 3, sul crinale, 80, in appallamento, crinale, destra 6, in sinistra 5, sul crinale, 80, in appallamento, 200, attenzione, frena, tornante aperto, sinistra, e destra 2, lunga, stringe, non tagliare, che sono le spettive, non mi fatelo, in sinistra 3, non tagliare, tieni la sinistra sul crinale, 100, in appallamento, 100, stai al centro sui crinale, 80, destra 3, 60, non tagliare, destra 2, non tagliare, stai al centro sui crinale, non puoi tagliare, se vai fuori alla pista, se ti ribalti, tieni la destra sul crinale, distra 2, 60, non tagliare, distra 3, non tagliare, stai al centro sui crinale, altra guarda, lenta per il commissario, anche questa è andata, ha vinto anche questa, siamo troppo forti, commissario, commissario è fatto, appuntare, è andata bene, ottima tappa, complimenti, ma no, cos'è che commissario è commissario, scusate, e sai lì controllo di tuo arrivi, è certo che è arrivata la macchina, sono arrivato un po' di questo, guarda lì, non è tetto, Paolo è sul tetto d'Europa, ci sono delle volte che contrasti di valutà, totalmente tanto che arriva la macchina, guarda, la 1900, è il record di riparazione, guarda, anche senza me, ah, in terreno mi ha avvinto l'evento, totale, un bel capitato, ammirabile, quando si inizia a fare sul serio, ah, ya, sul serio, su bravo imprese, non mi ha fatto un vero, assoluto, assoluto, progrezzi campionato, primo, dall'internozionale di 90, primo, pieno, pieno, vieni sbango, deliziaci un po' con il tuo sourfair, ok, vediamo se possiamo cambiare, tipo qualche modalità così, tipo competizione, download, pro tour, evitimunità, no, non è questo, dieta academy, è praticamente per imparare a giocare, asser volante, le sfide, non so, multigiocatore, testa a testa e sfide, proviamo, no, però, facciamo delle figure barbine, proviamo per asso del volante, nella modalità asso del volante, puoi dare prova del tuo estro, nelle sfide autoscontro, e prova cronometro, in cui potrai mettere la mostra, tutto il tuo bagaglio, e fare più punti possibili, scadere il parco giochi, introduzione, mini, pandemonio, prova cronometro che ti ha, scontro speciale, comunque ce ne sono un bel po' eh, a seconda, maestri del, maestri del, lo scontro mi sembra, quella, questo mix di tecnicismo, e sushi, intanto, io non so mangiare sushi, anche se lo vivi di realtà, ma non è che, vediamo, hai fatto di peggio, direi, comunque, dirt fish, ok, penso che, queste modalità, si tengono, soprattutto in questa, questa mappa, perché anche, quando ho trovato, nell'evento, apposito in dirt, c'era sempre questa mappa, quindi, penso che, sia fatta apposta, che è la provincia di Parma, più o meno, cioè, vediamo un po', cosa ti toccare a fare, perché autoscontro, mi sembra che, non, non l'ho provata, ho provato le altre, più che chiaro, io non voglio, suggerirti niente, però, secondo me, nell'autoscontro, devi scontrarti con qualcosa, con l'auto, beh, però, mi sembra un po', debole, come macchina, questo dipende da te, vai alla sfida, ma è stato sui, i suoi più blocchi possibili, ah no, sono i blocchi, quelli lì, di prima, pensavo, pensavo fossero le blocchi, ah no, quindi questa qua, l'ho provata, ok, e non riuscivo neanche, a dare, veramente, troppo, troppo distanti blocchi, li vedevo come mai, ah no, 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 La macchina si piatta subito Il cane è pieno E' assoluto 11 secondi, spacco, 10 Eh non c'è però mai Ma si che ce la fai Credi nel fare delle carte E' impossibile questa sfida Nuovo erico personale Eccezionale Eccezionale Bene Riproviamo Non farlo fare a me Riproverò io Poi cambiamo Riavviamo Tra l'altro era impossibile arrivare a bronze Guarda te si vede pure il ruino E' una stontuta Vediamo eh Dobbiamo uscire almeno questa volta Nooo c'è il caso Nooo c'è il caso Nooo c'è il caso Nooo c'è il caso Eh non è sempre il caso Nooo c'è il caso Nooo c'è il caso Nooo c'è il caso Avendoci messo meno tempo Secondo me adesso è sforzata la tv Speriamo Apare il caso Ma che l'abbiamo E' uguale Nuovo erico personale andiamo avanti così, per il 2018 forse, vai cambiamo speed, no, ok, sono le stesse, cambiamo proprio capitolo, mi spiace il capitolo ma non riusciamo a andare avanti questo è il Big Big Book, non lo so, è il numero 4, sì, non mi ricorderò l'artista ma messi la prova a cronometro, cos'è? un weather or what is to pair? proviamo, vediamo, proviamolo, sarà probabilmente una sfida a tempo, è sempre qui, comunque questa modalità si svolge principalmente qui sarà questa app, fabbrica di mattoni, sì, ghiaia media, ghiaia settile, c'è un po' di tutti i tipi, se siete amanti della ghiaia tranquilli che ce l'hai per tu, se studiate ghiaia, è buono studiare ghiaia, dei viaieri vediamo, dirt fish, è pesce sporco per me mi ribanto con questa macchina ok, ah ok, miglior tempo, devo prendere quello che è lì si, non muovo la macchina di percorso ma questo è un trasformo si, 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 ma poi roversumare ma, ho girato la vedo ma, se è, vabbè, ok la ricomincia, la ricomincia facciamo finta che non gli è successo niente tutto questo non ha preso un problema ma, la storia ho, ho fatto una turba normalissima e se, un po' si ribalta come di fare le cose più calme no, è impossibile da andare, ma andare come se, quasi un go kart ragazzi, è veramente impossibile da guidare questa cosa mi giuro che facciamo finta che cos'è che un po' se, 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 un po' se... se vuoi si può poi devo rallentare ogni volta che si cosigni ecco questa sarà una cosa la macchina è spaccata proprio riavviamo un'altra volta veramente copri le ruote per favore è veramente incredibile vuoi guidare te come va questa macchina perché ci sono anche tre giri di questo fatto in umano ah è vero cazzo poterino neanche al primo sono ripeto a resistere questo stai andando molto bene molto bene è interessante dai ma non ho toccato nulla dove stai andando non so è impossibile no vedrai non so da fare si adesso la prima volta che mi la prossima volta che vado fuori pizza tra i due perché è proprio incredibile andrai più fuori pizza qua è il momento della verità il momento del nuovo livello non so da fare ah vedi qua però va normale sui mattoni qua eh perché l'anghia è rossa secondo me guarda che c'era l'acqua ma ci dentro subito ah ma va proprio lì e quindi qui non sono un po' di repete non passa non sento si ma mi sono ritirato in una seconda adesso vediamo Paolo e te vabbè cosa hai detto? io ho trovato il tuo direi che sono lo scarso io o no? con questa macchina che era è un messo il mister si molto braile si siamo al secondo giro eh però il problema è che è che non deve fare il tuo quindi un chiamato di sventura che vuole la macchina manchino per chi è ma non ci sono più cose nooo nooo però è mazza di per l'opo stile si 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 e uno e uno cico e gli attori No, se non è il problema di questa macchina È impossibile, è impossibile Se accedere il testo si ribade No, un secondo Non tagliare Bene, a quest'ora abbiamo già fatto i tre giri No, niente è oro, peccato Guarda che cuccagna che c'è guano Guarda, abbiamo recuperato un sacco, grazie Siamo ancora in ballo per loro No, non posso, manca un altro giro Io dico che se fa un altro giro Quattro seczioni Perchè riserva? Basta, niente bronzo La medaglia è sfumata Bene anche bronzo No, infatti è sfumata Ah, ok Sbronzo Ma tu l'hai mancato Ma veramente impossibile, dare Devo mettere che l'ho fatto un po' Sì, sì Si è visto Vabbè ormai non c'è più nulla da dire su questa gara Hai mandato a un giro tra l'altro Ma no Eh sì, eravamo a due Non c'è sconfitto Sì, dovevamo aver già finito in teoria Sì, da un minuto Sì, sì Mamma mia Eh però, la metà bene Ok Ok Ma non c'è l'ora che sia incredibile questa macchina Incredibile Incredibile Ah, ragazzo Ossi Raya Uff No Non c'è la pasta La nostra volta qua L'ho spaccato tutto Sì Non c'è Ma adesso è un monto No No Non posso sentire Che Sì Non c'è 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 E forse la rotola vano eh non si manca, non ha senso di dare se manca da che è la fine perfetto, nuovo record personale quando uno è troppo forte incredibile il tachicoma di ghost in the shell e abbandonare tutto abbandona capito con il mezzo disinstalla allora vuol dire di fare l'ultima cos'è speciale gruppo B? ah non lo so è tipo il sangue mini pandemonio mini pandemonio mi sembra anche questo un mix di tattica e intelligenza di gioco bene mi è compilita con questo tuo tracciato mini pandemonio per me devi andare addosso alle altre macchine mini q io voglio la mini countryman rallycross eh ma la seconda sfida è quella che è più difficile a me meno male ah no forse devi distruggere i blocchi eh non ne ho idea come quella che ho fatto prima che differenza fa? eh con le mini però quel che sono hai già scritto 150 blocchi d'oro rip pandemonio rip pandemonio ma dalla regia sono un po' infatti la regia ci sventolano focacce e bignè le cornie di cui noi se trovate Stefano insultatelo e anche c'è il dolce incredibile se li trovate se li trovate insultateli e noi suddirti finisce assetto del verde noi qui con le mini salva l'assetto ti ha salvato l'assetto eh te l'ha distrutta la macchina mini pandemonio bene di distruggeri i blocchi bene cos'è che ha ma guarda c'è un aeroplano dai Paolo per me ce la puoi fare ah ma è come quello con più blocchi è proprio la seconda sfida quindi ancora più difficile non sa che cosa no ok non è successo nulla bene non ha visto nessuno che strana macchina guardate guarda è sempre l'aeroplano adesso Paolo la fa volare t scuola sto staccando ma che sta sinistrando nooo 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 Per me sta andando benissimo Sai, un minuto ce la fai per me, non è sessanta Sessanta si Ah, è proprio così? Hai chiesto qua Stai di tornare lì Scendi pure Intanto continuano a imperterti dalla regia a mangiare Ciglio Ah beh, andiamo Mi sono andato dall'altra parte a capo Siiii Guardi, c'era una strada 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 No, c'era una strada Pensavo hai fatto uno ventino Guardi però Sei vicino, ne mancano una ventina Tretta Per me Ce la puoi quasi fare Credi nel cuore delle carte Vescalo Un secondo Dai veloce Nooo È momento di dare tutto Fallora degli eroi Nooo No, ne mancano sei Nooo Scusa Non lo so Non l'ho capito Adorato 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 Si, si vede comunque che è migliorato Ha capito i problemi che erano e li ha risolti già Non so se è giusto Sì, va bene Stava sempre bene Sotto la ruspa Ma si, ma tutte le strade sono giuste Alla fine va sempre Come fatti questa? Hai rifatto con un bel taglio Eh, mi sei guarda Come sei appena fatto prima ma con cinquanta blocchi Ma no, di cosa? Qua c'è la zuccagna C'è un po' più grosso Ma no? Un paese di balotti c'è Guarda te Guarda, è il momento Facci vedere Uh, il santo Eh, ma non hai preso quello di volo Paolo Guarda 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 Oltre il conteller L'ho visto Guarda Guarda Volevano Eh, no Due Due, no? Mancano sei secondi Sei più giurato Meno male Ho perso Sono da 45 volte Sbambone due punti La seconda volta va sempre bene Ma te hai giurato di tanto comunque Meno male Meno male Però il primo è arrivato a 106 Eh oh Eh eh oh Eh oh Eh oh Vieni Vai provo anch'io a fare questo Che sembra Sembra più facile di quello degli altri Adesso farò tipo 70 Locco Toro Locco Eh, Locco Toro Io Cutaro Io Cutaro Io Cutaro che è il copilota Direi di fu No No Ciccato Eh, qua sono fuorissimi Ciccato Questa non l'aveva visto prima Ah no, sì Quello dove si è schiantato Quello che mi è chiuscito Si Ah, l'avevo preso Aspetta qua c'è una roba Guarda Guarda Spammone che impara dagli errori Delibile Mamma mia, mamma mia Una macchina da guerra Io praticamente questo cosa Se vai piano Se vuoi volerlo Vai piano la tua grazia Non tagliare Non tagliare Non tagliare Per quest'anno Non tagliare Senza spiaggia Stesso Guarda Spammone Ce l'hai Ce l'hai Quello è il tuo bronzo Spammone Quello è il tuo bronzo Spammone Non fa male Non c'è Non puoi vedere Non puoi vedere Dove ne ho andare Qua a destra No, qua non c'erano A destra e a destra Vabbè, chi si frega Almeno ho preso bronzo Se prega Fatto bronzo Direi che possiamo abbandonare vi lasciamo benissimo abbandona il capitolo abbandona tutto possiamo chiudere qui la nostra live bellamente avete visto Dirt 4 con tutta la sua bellezza e tutta la bravura di chi ce l'ho appresentato beh ovviamente soprattutto Paolo nessuno avrebbe potuto fare meglio di noi su questo video io sono reno incognito ovviamente ovviamente ha fatto finta di essere scazzo ma in realtà lui mi sento bravo tra noi si divertivano più infatti infatti non è successo torneremo tra poco con le nostre incredibili intrepide gesta ciao a tutti ciao a tutti adios